Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Munchkin in versione dungeon, gioco dell'Akmon e portato in Italia da Asmod Italia che io ringrazio veramente di cuore, come sempre immensamente, per avermi offerto questa copia per la recensione. Si parla ovviamente di Munchkin, si parla un gioco fatto di tradimenti e giocate contro l'altro gruppo di avventurieri perché qui non sarete mai un gruppo coeso ma ognuno mirerà a fare il proprio dungeon e a guadagnare più punti tirandola in tasca al prossimo, questa volta ve l'ho detto non in versione gioco di carte ma in versione dungeon proprio, vero e proprio dungeon crawler con tanto di miniature, ma ve ne parlo a breve dopo la sigla. Munchkin Dungeon, come vi ho detto in questa nuova edizione portata in Italia dalla Asmod Italia è un dungeon crawler abbastanza classico alla fin fine, c'è una mappa con delle stanze bisogna spostarsi in queste stanze e fare determinate azioni. E Munchkin è un gioco particolarmente famoso e alla fin fine molto molto giocato e gittonato perché a parte essere scansonato e molto divertente, alla fin fine è molto grottesco anche nei disegni e tutto quanto si vedono mostri del tipo un naso gigante oppure l'eroe con il mito con le corna che sembra uno della Lega a Pontida, vabbè lasciamo stare, e una padella in mano ed è molto divertente, alla fin fine non si prende mai troppo seriamente però il discorso principale di Munchkin, riportato anche in questa versione di dungeon crawler è il fatto di doverla tirare in tasca al prossimo, ovvero non c'è il vostro personaggio non arriverà mai ad attaccare il personaggio di un altro, quindi non c'è uno sconto diretto fra il mio e il tuo però c'è la possibilità di giocare carte contro, che possono essere carte nel 90% dei casi per potenziare i mostri che stai combattendo, fanno apparire di nuovo, che ne so, entro in una stanza trovo un ragnetto a livello 1, il mio guerriero a livello 2 lo distrugge però improvvisamente gli altri giocatori giocano delle carte e quel ragnetto diventa un ragno a livello 10 grosso come Shelob del Signore degli Anelli e quindi il mio guerriero a livello 2 ne tocca perché il senso del gioco è ognuno fare il proprio dungeon, ammazzare i mostri, ammazzare il boss finale arraffare il tesoro e andare via con appunto più punti possibili perché poi anche questa qui è una gara al punteggio ed è veramente molto carino e come riporta la scatola è da 2 a 5 giocatori la durata media è di una partita su 90 minuti e dai 14 anni in su perché comunque come età va bene ma io mi sento tranquillamente forse per il fatto di giocare un po' queste carte con il fatto delle carte è leggermente più complicato per un bambino però lo abbasserei anche tranquillamente di 2 o 3 anni perché poi ve l'ho detto è un gioco molto molto divertente le miniature per quanto tra molte virgolette grottesche sono veramente di una bellezza disumana vi spiego un po' come funziona ma prima di tutto unboxing confezione del gioco, bella grossa la scatola, guardatela rispetto alla mano ma poi anche bella spessa è veramente immensa perché c'è uno sbotto di roba dentro ma aspettate un attivino di vedere le miniature che sono bellissime e il disegno è il classico stile di Munchkin veramente divertente molto molto bellino e evocativo apriamo il regolamento in italiano tradotto molto bene e di una facilità disarmante poi tra l'altro pieno zeppo di esempi elate e tutto quanto vedete anche con righe che vi fanno direttamente la lettura delle carte e del tabellone un tipo di mostro che è un naso gigante per farvi vedere a cosa si va incontro con Munchkin Dungeon e il regolamento ragazzi è veramente molto molto veloce poi ci sono tutti quanti i token che vi dicevo che sono token monetine che servono per passare di livello questi qui sono segnapunti sul tracciato punti divisi per i colori dei giocatori e poi vedete tutti quanti i token minaccia che servono appunto per attivare delle carte di solito da giocare contro un altro giocatore poi le tabelline vedete le schede tipo quella del mago i dadi che tira quindi ha tre dadi la vita ovviamente quando la vita arriva a zero il personaggio è a terra per più le abilità speciali che vengono attivate dal fulmine slot arma slot armatura e poi tutti quanti i livelli del personaggio mano a mano che si spendono le monete che avete visto prima si passa di livello e passando di livello si guadagna qualcosa un dado d'attacco che ne so una ferita e qui la possibilità di ritirare un dado il tabellone che ora poi a breve vi faccio vedere aperto bellino veramente da morire basettine colorate dove mettere i vostri personaggi i dadi che sono veramente molto carini anche come stile rimandano molto ve l'ho detto sia a descent che al vecchio hero quest mazzi di carte che sono carte equipaggiamento e loot ovviamente non sarebbe un dungeon crawler senza la possibilità di andare a dare a fare qualcosa e poi tutte quante il resto delle carte che sono mostri equipaggiamento e più che altro vedete carte in stanza e poi si arriva alla scatola delle miniature ragazzi che sono belle anzi bellissime e immense si parte qua giù in grigio dagli eroi c'è un classico nano ad esempio guerra fondaio poi qui un altro personaggio questi qui in grigio sono i personaggi principali dell'avventura e poi i mostri questa specie qui di creatura pelosa che sembra il cugino hit della famiglia adams poi il naso gigante vi immaginate questo qui a colorarlo con tutto il mocio che lo tiene sospeso una specie di uccellaccio maledetto del malaugurio che anche questo qui è veramente spettacolare per poi arrivare tipo al maiale volante con le ali queste cose nemmeno sotto nemmeno sotto lsd uno le potrebbe vedere e poi i boss finali che sono un gigantesco minotauro arrabbiatissimo il più bel drago che io abbia mai visto guardate là questo è veramente spettacolare al solito dandovi sempre una visione dall'alto intanto poi vi faccio vedere un po' di immagini tutto quanto nel montaggio di questo munchkin dungeon ragazzi è veramente divertente perché l'idea principale è quello che c'è un dungeon con un'entrata delle stanze divise per livello quindi stanze livello 1 con mostri livello 1 almeno che qualcun altro qualche infimo non ve le vada a potenziare come vi ho detto poc'anzi livello 2, livello 3 e poi il boss quindi il vostro personaggio potrà fare tot azioni nel proprio round che ovviamente possono essere differenti una soltanto di queste azioni qui l'unica cosa è il movimento movimento non siete illimitati potete farne quante volete quindi il vostro personaggio si può muovere da una stanza a un'altra sfondando la porta per entrare da una stanza a un'altra andare avanti però ogni volta che si sposta da una stanza a un'altra c'è una riserva comune di punti rischio che è un'icona in basso in ogni mappa in ogni stanza nera praticamente in questo pool comune vengono messi tutti quanti questi gettoni rischio che quando poi il guerriero più aprendo stanze combattendo mostri farà appunto incrementare questo pool il giocatore il primo alla sua sinistra sarà quello che perché ogni giocatore ha in mano un mazzo di carte appunto da usare contro per potenziare il proprio personaggio equipaggiamenti armi armature pozioni roba incantata e cose del genere ma allo stesso tempo anche carte da usare contro gli altri giocatori e quando si entra in una stanza i mostri vengono mossi dal giocatore alla tua sinistra e poi ovviamente si può giocare una carta ciascuno o anche di più fino a che c'è abbastanza punti nel pool quindi la prima la giocherà quella alla tua sinistra poi quella alla sinistra ancora andando in senso orario e quindi fino a che hanno carte in mano magari uno usa la carta che per attivarla servano tre gettoni rischio quello dopo magari potrebbe usarne una che ne cade due poi rimane un solo gettoni rischio se qualcuno ha una carta da uno o il terzo la può usare se no ovviamente i punti non vengono utilizzati e questi gettoni rischio vengono usati appunto contro il giocatore corrente per mandargli contro il più mostri possibile perché il discorso principale del gioco poi regolamente è molto facile si vanno a tirare i dadi si guarda quello che è in mano si guarda il risultato ovviamente colpito mancato oppure colpo speciale perché a volte su alcuni sim sul dado c'è un fulmine e il fulmine come abbiamo visto in tanti giochi tipo Descent attivano o capacità speciali del personaggio perché poi ogni personaggio è differente dall'altro ovviamente magari c'è il guerriero c'è il chierico e cose del genere però anche e soprattutto abilità speciali delle armi e dell'equipaggiamento fisico quindi bisogna un pochino andare a vedere il risultato poi lo scudo leva una spada che è un colpito un po' cose come si sono viste in hero insomma a livello di regole non è niente di speciale o di innovativo mettiamola così poi andando distanza in distanza si prendono i gettoni i soldi entrando nella stanza soldi che possono essere usati ovviamente per fare il level up per passare di livello perché non puoi arrivare a combattere il boss finale livello 1 senza equipaggiamento perché ti stronca e anche questo fatto non è consigliato muoversi troppe stanze nello stesso turno perché si ti può muovi di quanto ti pare però sei debole non ce la fai affrontare mostro è inutile lasciare il boss boss che poi trovate nella stanza finale da tre vite quindi lo sconfiggete la prima volta ed è un livello A un livello 1 lo sconfiggete la seconda volta e un livello 2 per poi diventare potentissimo perché mano a mano che lo sconfiggete lui si arrabbia e diventa più forte e ogni volta che lo sconfiggete verrete ributtati direttamente all'entrata del dungeon e dovete rifare tutto quanto per arrivare fino a un fondo e di sconfiggerlo il gioco finisce quando si raggiungono tot punti oppure quando il boss viene sconfitto per la terza volta quindi il primo giocatore che sconfigge il boss per la terza volta si va a fare la conta di punti che sono le stelline tutte quante le stanze visitate tutto l'equipaggiamento sbloccato tutti i mostri uccisi che finiscono nel cimitero e la partita finisce quindi alla fin fine come regolamento ragazzi è veramente molto molto facile tra l'altro è spiegato benissimo nel manuale in conclusione questo Munchkin Dungeon è un gioco per tutti forse la cosa leggermente più complicata e complessa che i poveri sono queste carte perché c'è tanta roba da leggere capite? le devi usare anche nel momento giusto perché è una carta non usata quando magari il guerriero combatte contro quel mostro che potrebbe sconfiggerlo e ucciderlo che poi non morite mai tornate semplicemente all'inizio del dungeon però magari se non la usi nel momento giusto lui va avanti ammazza il boss e te perdi la partita o fa troppi punti quindi bisogna tenere questo pool di carte in mano e vedere un pochino come appunto come giocare nel momento giusto come regole ragazzi poi a parte tolte le carte facilissime veramente per tutti e chi gioca hero questo può giocare anche questo c'è qualcosina in più da leggere ma secondo me è un gioco veramente alla portata di tutti ed è un gioco consigliatissimo forse è più indicato già agli amanti non tanto dei dungeon crawler quanto agli amanti del vecchio munchkin perché è poi in tutto un giocare di sotterfuso cercando di tirarla in tasca al proprio avversario perché poi siamo tutti fondamentalmente avversari per quanto non ci sia pvp diretto però è un gioco secondo me che potete mettere in qualsiasi tavola e farete divertire io ringrazio Asmo d'Italia per avermi fornito questa copia per la recensione grazie immensamente ragazzi se lo volete ordinare vedete il primo link in descrizione e in sovraimpressione dal sito get your fun che sarebbe board game discount lo stesso potete usare anche il vecchio link che ha cambiato nome ha cambiato nome perché non è più soltanto un negozio di giochi da tavola e giochi di ruolo ma diventa anche proprio è vero negozio nerd geek quindi alla fin fine è anche negozio di miniature e ha tanti altri oggetti componentistiche varie andate direttamente a vedere in più diventa anche un'area social dove si discute di giochi da tavolo dove appunto c'è la possibilità di confrontarsi dove c'è la possibilità anche di giveaway o comunque aree social quindi andate a vedere perché get your fun che board game discount quel vecchio board game discount lo vedete il nuovo logo ha cambiato completamente in più figata disumana puoi vendere il tuo usato quindi un gioco usato lo potete vendere e potete fare kickstarter direttamente da get your fun in comune ci sono gruppi che fanno kickstarter insieme per ammazzare magari le spese di spedizione quindi c'è un kickstarter che vi interessa lì trovate dei gruppi che lo fanno così distruggete completamente le spese postali e magari andate a risparmiare qualche soldino in più vi ricordo se questo gioco non lo trovate perché non lo hanno in lista scrivete al supporto vengo dal canale di Corridan si potrebbe avere Munchkin Dungeon ve lo faranno avere come tutti i giochi che ho trattato ve lo faranno avere al miglior prezzo possibile sul mercato e magari anche vi faranno un trattamento di cortesia fatemi sapere un po' cosa ne pensate per me è veramente un titolo molto valido e divertente ciao ragazzi alla prossima